Mi ha portato Luca Bertossio con i suoi amici al Borro oggi. Luca ti sto filmando, a me non scappi. Almeno sappiamo che sei stato al Borro oggi. Sei tu o sei quello finto? Sei quello vero? E' quello vero? Allora è Luca Bertossio quello vero. Bello, bello, un bellissimo posto e lo consiglio a tutti quanti. Bravo, bravo. Tanto tu tornerai giù il 23 e il 24 per il Film Festival. Adesso ti troviamo un passaggio, un ferry e via. Un bel ferry e sei a posto. Ciao ragazzi.